Ci sono altri interventi sul timonato, passo a saluta con voi che ragionano. Con il giusto tempo di durare. Allora, giusto un altro intervento. Il mio cavo passa a seguire un giorno. Non è il momento di ricordaggio dell'Istituto dei Voti. L'archivolo 254 deve avere il suo frattivo, dove c'è un'altra parte di vita. Devo leggerlo, pensate che tutti quanti si rincomano. Dove ho letto, vorrei vedere di quello che stiamo parlando, penso che sia il tuo amico. Dove ho letto, visto che... Dove ho letto? Sulla relazione proposta del Presidente, per esempio che con le relazioni considerate un valore del 19-4-2-10, a consiglio di questa città, ha preveduto la nomine dei nuovi emissori dei gruppi, che accettano la riscritta decisione in grado del 24-2-10, con la nota per la quarta 11-4-12. Nove consiglieri comunali, che si parla di richieste per una nuova situazione del Consiglio comunale, che si procede a parlare del momento dell'arte concettente, da decenni in grado del Consiglio, che a seguito della vernetta richiesta, che sarà avvisata una nuova statuta del Consiglio comunale, che il giorno del 15-4-3-2-mese si rincomerisce, per cui non ha il Consiglio, che ci deve essere un altro concetto che ci sarebbe liberato, sarà necessario procedere da molti nuovi emissori, e quindi agli struttori di una nuova cosa. E' tutto voglio che il struttore del Consiglio comunale, che ci sarebbe comunque attituata, assorbita, dell'altro 1-8, adesso non solo la valga, se non il contenuto, che nella forma stessa deve intendersi, nella nuova rappresentata, in parte c'è la scelta anche, della propria operazione di servizio di Portano. La deliberazione della passione statunale numero 45 del secolo 87, di carattere in grado di eseguire la prima unità di revisione dei conti per la Costituzione dell'Auto di revisione fondamentale del Comune. L'articolo 18-4, dove il decreto legislativo 18 ordine di vita, numero 16-7, del 3-4-1-2, stabilisce il Consiglio, della parte di revisione fondamentale del Comune della Croce di Registrata a. Grazie. 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 Grazie.